E' stato molto emozionante vedere il mio progetto sfilare qui a Fashion Graduate Italia ed è stato come vedere le mie piccole creato i ride e camminare su una passarella. La cosa più bella è stata vedere nello schermo, nel backstage, tutti i capi miei che sfilavano. La cosa più bella è stato l'ultimo fitting in cui ho potuto guardare effettivamente bene quello che è stato il progetto che ho sviluppato in questi ultimi mesi. E' molto emozionante perché ho visto tutte le mie diet e le mie paure sui capi. La cosa più emozionante di tutto è stato vedere la mia collezione che era molto personale e che tutti possano vedere la mia storia. Grazie per la visione!